Ah sì, tanto siamo colleghi, ci conosciamo, conosciamo tutti le canzoni di una... Noi domani potremo, Nicola potrebbe cantare con il Queen, i Gigi, con il Depeche Mode, con il Radio X, insomma, vero eh, le conosciamo, potremo andare. E oggi noi abbiamo fatto questo regalo a un nostro amico, collega, Daniele. Siti? Tra Daniele e Siti hanno fatto anche un Taylor per farvi notare quanto ama la batteria Taylor, credo che sia Taylor Swift, Taylor Swift, per Taylor, delle quelli loro best. Ci giochiamo questa... Fuller's in illusion, questa è l'illusione al Fuller's. No, proprio, non è un problema. Fatte un applauso al Daniele, un applauso di un applausamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.